Gravi reati contestati agli odierni arrestati e un giro milionario di evasione fiscale, tra le altre cose. Sì, però è un reato che è percepito in maniera estremamente dura dalla legislazione tedesca e nella fattispecie qui parliamo oltre di false fatturazioni, evasione fiscale, però mancati versamenti all'ente previdenziale e fatture false. Tutto canalizzato a favorire le ditte regolari che servivano dei servizi di queste società fittizie per operare in un clima di concorrenza sleale. Le indagini sono state condotte dalla polizia tedesca. Quali rapporti di collaborazione con la medesima e la tecnologia vi ha dato una mano? Le indagini le hanno svolte dei tedeschi che usufruiscono delle più moderne tecnologie sia per le indagini classiche sia per le indagini di tipo patrimoniale. Gli odierni arrestati contavano forse sui mancati controlli perché erano circa 100 gli operai che comunque lavoravano senza alcuna contribuzione? Il breve lasso temporale in cui queste società operavano, cioè era un lasso temporale di 6-9 mesi, gli consentiva di prevedere che difficilmente avrebbero subito controlli. Loro facevano un affidamento su questo. Al momento dell'arresto i due soggetti hanno sospettato, immaginavano che reazione hanno avuto? Di sorpresa perché giustamente essendo in un altro pensavano di essere al sicuro e al di fuori della portata della legislazione tedesca.